A Tom, a Tom, e questo qua, Tom lo vedete che sta scritto qua, lo vedete? Con la collaborazione di Tommaso Minnita. A Tom hanno insegnato che così fan tutte, capito? Perché Tom, Tom è un attore del piccolo teatro di Milano e lui ha avuto pure una parte importante e così fan tutte, così fan tutte. L'opera, diciamo così, allegra di Wolfgang a Matteus Mozart il quale Wolfgang a Matteus Mozart si basò sul libretto di Lorenzo da Ponte e lì abbiamo tra i vari protagonisti anche un certo Alfonso che a un certo punto dice che le donne sono tutte così che mettono le corna che l'amore è come l'araba fenice il fatto è che io questa mattina ho piazzato un video intitolato l'amore è come l'araba fenice e quando Tom l'ha visto si è ricordato di quando aveva recitato come protagonista in questa opera intitolata così fan tutte che poi mi pare che abbia anche un secondo titolo La scuola degli amanti il fatto è io vi lascio il commento di Tom con un link che vi porta che vi porta su questa opera così fan tutte così fan tutte ovvero l'arte degli amanti la scuola degli amanti ve lo lascio poi andate a sentirlo voi andate a sentirlo mi pare che al minuto 20-22 ma ve lo dice Tom ve lo dice Tom nel commento dove dovete andare e il fatto è sì 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 Lorenzo da Ponte ha scritto proprio che l'amore è come la fenice solo che è come l'araba fenice che ciascun che ci sia ciascun lo dice dove sia nessuno lo sa il fatto è però che Lorenzo da Ponte non poteva conoscere le opere di Serafino Massoni perché sono vissuti nel 1700 tenete presente che l'opera bella operetta musicale e così fan tutte ovvero la scuola degli amanti è stata come si dice eseguita per la prima volta il 26 gennaio 1790 un anno dopo lo scoppio della rivoluzione francese e allora non c'era Serafino Massoni non c'era Serafino Massoni quindi Lorenzo da Ponte e quindi Polsk a meteo muore non potevano sapere che la questione che l'amore è come l'araba fenice non riguarda solo solo le donne riguarda pure gli uomini io non faccio differenze capito non faccio differenze siamo tutti esseri umani l'amore è come l'araba fenice non solo come non solo per le donne così fan tutte così fan tutti ma pure per gli uomini così fan tutti così fan tutti capito capito Tom la differenza sostanziale tra me me Serafino Massoni me Serafino Massoni e Lorenzo da Ponte e Alfonso io il libretto l'avrei fatto un po' diverso avrei detto che le donne dice la donna beh poi c'è anche sapete la donna immobile qual piume al vento muta l'accento ed il pensiero e questo riguarda tutti riguarda tutti riguarda Tom riguarda tutti questa faccenda riguarda tutti l'unica l'unica differenza tra le corna di una donna e le corna di un uomo che l'ho già spiegata è che se il marito mette le corna alla moglie quando il marito torna a casa dalla moglie non torna mai incinto invece la moglie se la moglie va fuori e mette le corna al marito quando la moglie torna a casa dal marito può essere incinta con sperma altrui tutto qua poi dopo ci sono le variazioni sul tema cari amici le variazioni sul tema va bene qua concludo la questione saluto Tom che è attore del piccolo teatro di Milano e tante altre cose saluto voi e a tutti cari saluti da Serafino Massoni la 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 Grazie.